Si respira subito un'aria diversa provando Metroid Dread per la prima volta. Dread dall'inglese si può tradurre come paura, timore e dobbiamo dire che è proprio quella la sensazione assieme all'adrenalina pura che il gioco trasmette nelle sue sezioni più intense, quelle dove saremo chiamati a sfuggire agli Emmy, i misteriosi e brutti robot che ci daranno la caccia sin dalle prime battute. Lo sviluppato da Nintendo EPD e Mercury Steam, Metroid Dread è ambientato subito dopo le faccende del magnifico Metroid Fusion. Samus ha appena sconfitto i Parasiti X e con i Metroid estinti da un pezzo pensa di essere al sicuro nella galassia. Tuttavia, un filmato preoccupante arriva dal pianeta ZDR. Un manipolo di robot di ricognizione è stato inviato in loco perché sembra che alcuni Parasiti X siano ancora vivi. Quando anche la cacciatrice d'Italia arriva sul pianeta, di loro non c'è però traccia. E, anzi, sono proprio gli automi che dovevano aiutarla a ribellarsi misteriosamente contro di lei. E proprio intorno a questi Emmy ruota la grande novità di Metroid Dread, l'accento posto sullo stat. Se infatti per la maggior parte del tempo il gioco si affronta similarmente ai passati Metroid, tutto cambia quando ci troveremo ad avere a che fare con i sopracitati robot, i quali abiteranno alcune aree prefissate. Quando sarete vicini a un Emmy lo capirete, la musica si farà più tesa, l'illuminazione cambierà e un puntino rosso apparirà sulla minimappa. Loro non possono uscire da quella zona, ma la loro minaccia si farà comunque sentire davvero forte, anche perché Samus è quasi completamente in difesa contro di loro e una volta catturata avrà solo una minima chance di fuggire. Altrimenti è game over e si è costretti a ripartire dal vicino checkpoint. La soluzione sarà quindi quella di fuggire a gambe levate cercando l'uscita, oppure ingannarli sfruttando un'abilità che vi renderà invisibili ma anche più lenti e indifesi. Queste scelte e l'ansia terribile di queste sezioni è senza dubbio la parte meglio riuscita e più innovativa di Metroid Dread. Dove il gioco si prende meno licenze e forse non osa abbastanza è nel resto delle situazioni, risultando a tratti fin troppo tradizionale e avverso alle novità. Il gioco non offre quasi nulla di nuovo rispetto al passato in quanto ha mosse, a parte una scivolata in avanti e un colpo verso l'alto che, se effettuato con il giusto tempismo, permette di stordire i nemici e ottenere maggiori risorse dopo averli distrutti. Risulta inoltre leggermente fastidioso mirare i nemici in alto e in basso quando ci si muove. La precisione richiesta si ottiene solamente da fermi. Il backtracking è, come da tradizione, forte fin dall'inizio, forse anche più del solito, ma non siamo preoccupati, perché le 20 ore per il completamento totale promesse da Nintendo restano un numero notevole per una serie che nei suoi capitoli portatili difficilmente superava le 3-4 ore per un playthrough completo. Visivamente il gioco si difende in maniera competente, senza però raggiungere vette artistiche o poligonali in grado di avvicinarlo a recenti mostri sacri del genere come Hollow Knight e Ori and the Will of the Wisps. Metroid Dread è in grado di muovere con fluidità boss mediamente complessi e di grandi dimensioni e i fondali animati donano ulteriore profondità agli ambienti di gioco, ma diciamo che dal prossimo Metroid Prime 4 ci aspettiamo un livello tecnico superiore. Ancora presto per giudicare la colonna sonora, ma i meno anglofoni di voi saranno contenti di sapere che il titolo è doppiato in italiano. Non vediamo sicuramente l'ora di giocare di nuovo a Metroid Dread e potervi dare un giudizio completo, ma l'impressione che abbiamo avuto dalle prime due ore è stata sicuramente positiva. Tuttavia, sia tecnicamente che a livello di gameplay, pur rimanendo un gioco di qualità, non sembra al momento poter competere con le recenti eccellenze di un genere che addirittura porta al suo nome, considerando anche come si è venduto a prezzo pieno.